ciao a tutti e benvenuti su mtgp di smegis of lotus allora partiamo dalla marcia of other worldly light una rara di kamigawa molto discussa allora e siamo in una fase di salita quindi come potete vedere dal grafico c'è una salita anche abbastanza importante adesso la carta si assesta sui 5 euro di minimo acquistabile tra virgolette e e sembra destinata a salire ancora allora diciamo che la carta ci può stare tranquillamente a 6 7 euro di più diventerebbe un po complesso in più essendo una rara potrebbe avere degli sbalzi quindi magari adesso sale tanto e poi scende perché magari i giocatori di un formato non la giocano più quindi è un buon investimento soprattutto se vi servono per voi per averla in collezione altrimenti ai prezzi attuali un pochino rischioso però è sicuramente un'ottima carta la seconda carta ottawa aveva segnalo di nuovo ormai salita nel senso che da 6 euro in cui stava fino a un po di tempo fa adesso 10 non fate conto a questa inserzione di academy legacy perché sono venditori giapponesi ci sono mille problemi ad acquistare da loro perché c'è la dogana in teoria e quindi è tutto un casino infatti il prezzo poi sale subito e adesso si assesta sui 10 euro quindi è veramente tanto ci sono un paio di coppie foil quindi se riuscite acquistate le versioni foil in inglese ve lo già segnalate ma la carta secondo me è destinata a salire ancora ci sono solo mille copie e credo che salga costantemente intorno ai 12 13 15 euro quindi aspettiamo ancora una salita l'ultima carta the world league emperor che continua come potete vedere la sua scelta infinita e adesso sui 30 alla fine arriva sui 30 e il proprio grosso problema che ci sono solo 164 copie però questa media di copie disponibili non sarà quella stabile che ci sarà nei mesi prossimi quindi aspettatevi una discesa un po del prezzo perché 164 copie di una mitica appena stampata è il realistico che ci sia non è successo né con ragavan né con altri se non per brevissimi periodi quindi magari una settimana ci saranno sotto le 200 copie e poi esploderanno sopra le 200 fate conto che un po delle persone che hanno acquistato le copie sotto i 20 euro l'hanno fatto non per tenere la carta ma semplicemente per specularci quindi quando gli arriveranno a loro queste copie le rimetteranno in vendita quindi ci sarà un afflusso di magari altre 200 copie e quindi il prezzo calerà iscrivetevi al canale lasciate un like commentate attivate la campanella ciao